Ok, io sono Cinzia e lei è Maggie. Siamo qua per dire a tutti che stiamo facendo alimentazione con colmio. Da quando prendiamo colmio abbiamo un pelo che è stupendo. Maggie è già più di un anno che mangia colmio, non aveva grossi problemi particolari, però la differenza si vede sia nella lacrimazione sia nel pelo che è veramente bello lucido. Maggie ha due anni poco più, è sterilizzata e consiglierei a tutti colmio perché è l'alternativa a una casalinga che è molto difficoltosa e molto impegnativa e quindi non c'è niente di meglio di colmio. Dopodiché ringrazio molto colmio, ringrazio molto Luca che è molto gentile. Maggie si sta addormentando, vero Maggie? Addirittura adesso con questa challenge facciamo ginnastica, vero? Facciamo un po' di tutto. Maggie si è fatta muscolotti, ok? Un saluto a tutti e grazie di nuovo colmio e grazie a Luca per tutto quello che fai per noi.